Mi porto i saluti, mi diciamo che il sindaco e il vice sindaco non ci sono. Ci tengo a dire che è importante ricordare il passato perché non dobbiamo dimenticare quello che è accaduto. Molto spesso il tempo ci affievolisce i ricordi e la memoria. Invece noi abbiamo il dovere e anche l'obbligo di ricordare, di sensibilizzare anche i nostri ragazzi, i nostri giovani. Perché come diceva Benedetto Croce, ogni storia passata è storia contemporanea. Quindi vi ringrazio e vi invito domani alla commemorazione e buona serata. Grazie.